Nome Daniel Marangioro Detto? Daniel Pantellas Da dove nasce il nome Pantellas? Un amico di Jacopo da piccolo lo chiamava Pantellas che in qualche dialetto strano Varesotto Varesino vuol dire più la coglione e quando siamo conosciuti lui fa e io conoscevo questo tizio che mi chiamava Pantellas e anche tu sei un gran Pantellas e da lì sono nati Pantellas Il viaggio più bello che hai fatto? Gli Ore de Mar 2011 ero con Jacopo Jacopo è stato picchiato dai Mossos ed è stato divertentissimo Il tuo comico preferito è perché? Jim Carrey, me lo limonerei tu se potessi Di cosa non riesci proprio a fare a meno? Di fare video su Youtube cioè per me è una droga non è proprio qualcosa di malato io voglio sempre fare video su Youtube perché mi diverto e quindi provo quasi del piacere malsano a fare video su Youtube è strano però ecco La pazzia più grande che hai fatto per amore? Ho pagato una limousine per riconquistare la mia ex fidanzata e lei mi ha detto comunque di no Che lavoro fa tuo padre? Il padre fa il gommista e il meccanico E veniamo al provino Fammi una risata felice Fammi una risata falsa Fammi una risata di rabbia Eheheheh 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 Sempre colai? Dimmi signore il pranzo è servito come lo direbbe Jim Carrey Il pranzo è servito ed è spumeggiante Un serial killer Il pranzo è servito E' buono Molto buono Salutaci con un insegnamento di vita Io credo molto nel carno Quindi comportati bene E ti tornerà solo del bene Un saluto Pantelliano a tutti Ok Ok Eheheheh Eheheheh Eheheheh